Un pigro che cammina. Così Roberto Barni, artista pistoiese, descrive con toni giocosi il suo autoritratto scherzo. La scultura in bronzo donata alla Galleria degli Uffizi ed esposta nel tratto finale del corridoio vasariano insieme alle altre sculture di maestri contemporanei. Un autoritratto che rappresenta le due parti dell'artista. Io ho voluto rappresentare una parte comodamente seduta e una parte invece che va a spasso, che va fuori, poi ritorna, ci racconta tutto della vita. Un artista già entrato nel cuore della città di Firenze con la donazione dei Passi d'Oro, collocata sulla parete esterna degli Uffizi in occasione dei vent'anni dalla strage dei gergofili. E ora entra con l'autoritratto, quindi entra in maniera stabile nel corteo di grandi e qui del corridoio vasariano. Ovviamente non siamo grati a Roberto Barni per questo pensiero generoso che ha avuto nei riguardi della Galleria. Mi fa particolarmente piacere l'ingresso di una scultura perché Firenze è una città che ha sempre ammirato e coltivato la scultura e la larga maggioranza invece degli autoritratti è su tela o altro supporto comunque pittorico. C'è poi lo scherzo vero, quello che non si vede, del vapore che esce a intervalli di tempo dalla parte superiore della scultura. L'osservatore attento potrà vederlo ed interpretarlo.